ciao a tutte bentornate nel mio canale allora oggi un nuovo video un video unboxing con la nuova collaborazione di do it to che è appunto un sito perlinoso e mi hanno anche attivato un codice del con il 35 per cento di sconto che è tantissimo quindi approfittatene vale valido per un mese e poi ve lo scrivo anche con appunto 35 per cento di sconto senza un minimo d'ordine inserendo il codice tutto maiuscolo mani creative 35 avrete appunto il 35 per cento di sconto quindi approfittatene perché è tantissimo allora cominciamo subito col vedere che cosa ho preso allora innanzitutto ho preso queste perline che sono allora aspettatemi che ci ho scritto tutto qua a fianco allora queste sono appunto delle perline in legno sono da 10 mm e sono 52 pezzi ok quindi guardate che belle che sono le possiamo anche aprire appunto come vi dicevo sono da 10 mm sono lucide appunto tinte di rosso e sono in legno e questo è quello che è anche di un'altra misura da 16 mm e in questo caso sono 15 pezzi eccole qua bellissime anche queste infatti è anche molto bene non hanno neanche difetti eccole qui ok poi queste non stiamo ad aprirle poi abbiamo delle perline in velluto contratto ho preso queste qui a stella e mostro più da vicino e sono appunto in velluto rosso da 14 mm e sono come vedete due pezzi sono troppo carine eccole qua le apriamo eccole qui quanto sono belline poi appunto in velluto quindi morbide morbide troppo carine queste qui poi ho preso anche altre perline diciamo in velluto e ho preso i cuoricini che sono sempre due pezzi quindi vi mostro anche il codice allora due pezzi vediamo dove sono scritte le perline niente non le trovo ok le vediamo più da vicino sono due cuoricini sono pieni di brillantini allora sono due cuoricini incoli qua anche questi sempre in velluto questi sono un rosso più scuro allora eccoli qui si sono da 11 mm e sono in velluto rosso scuro ok poi sempre di queste perline le ho prese anche due confezioni eccole a pallina quindi sempre rosso scuro due pezzi in ogni bustina eccole qua allora la misura si è scritta anche qui ed è da 12 mm eccole qui molto belline e tutto queste sono uguali tutte e quattro poi ho preso le 15 0 ne vediamo qui galvanese yellow gold 15 0 e sono ben 20 grammi quindi tantissime un bel paccozzo poi ho preso le 11 0 che sono le silver line gold sono sempre da 20 grammi anche queste e sono infatti molto particolari vedete perché comunque hanno questi questi riflessi sono molto carine e questo appunto sono 11 0 poi ho preso i chiodini chiodini piatti color oro misurano come vedete 50 x 0 7 mm e sono 50 pezzi questo è il codice eccoli qua poi ho preso una coppia di monachelle ma che la pallina argento 925 placata oro 18 mm quindi come vedete appunto è in argento e poi è placata oro e queste appunto misurano 18 mm molto carine sono due pezzi poi ho preso i bicono di rose pitch shimmer da 3 mm e sono 60 pezzi guardate che beicolo che bel colore con un sacco di riflessi questo è il codice poi cosa abbiamo preso abbiamo preso queste lette praticamente queste non lo so cosa stessi pensando non chiedetemelo comunque allora intanto leggiamo aria angelo argento anche queste 9 25 placato oro 12 mm x 3 mm ecco 12 mm x 3 mm o meno sono persa quando le ordinate quindi pensiamo fossero delle semplici ali no che utilizziamo sempre per i nostri angioletti e invece sono davvero minuscole cioè guardate le mie dita con tutto che sono fini le mie dita ok magari ve lo riempicciolisco così vi do modo di capire un po quanto sono minuscole e quindi vabbè poi vedremo cosa farci cosa inventare ok poi ho preso le gocce due gocce eccole qua pasta avorio 30 mm x 10 mm anche queste sono due pezzi davvero belle piacciono tanto e basta ok poi loro sono stati carini anche da mandare un piccolo omaggio e niente quindi questo è appunto tutto ciò che io ho preso vediamo cosa tutto combinerò ho già varie idee poi certo le ali piccole mi hanno un po spezzato le gambe però adesso vediamo un attimo e niente quindi questo era tutto ciò che ho preso da do ito mi raccomando vi ricordo il codice sconto che mani creative 35 tutto maiuscolo per accedere appunto lo sconto del 35 per cento senza un minimo d'ordine quindi niente io appunto vi saluto vi do appuntamento con il prossimo e primo tutorial appunto con questo sito e rimando un bacio ma mi raccomando prima peace and love ciao